Il risultato di un'ottima performance fisica dipende da come ci si presenta prima della gara e durante gli allenamenti. Energia, attivazione muscolare, mentale sono fattori indispensabili per chi vuole spingere sempre al massimo. Unpro pre-workout è stato pensato per questa tipologia di atleta. Utilizzando questo prodotto 15-20 minuti prima della performance, della prestazione potrai utilizzare la sua formula innovativa, un composto che si divide in tre parti. Una prima parte che prepara l'atleta allo sforzo attraverso uno spunto adrenalinico molto elevato. Creatina, citrullina che attraverso le loro funzioni di vasodilatazione permette una maggiore ossigenazione muscolare. 100 mg di caffeina che ti preparano a livello neuromuscolare e le vitamine del gruppo B per migliorare l'assorbimento. Il secondo elemento fondamentale di questo prodotto è la presenza di un'alta concentrazione di ciclomaltodestrine, un carboidrato di nuova generazione che ti permette di avere energia immediata e pulita. Ma l'elemento veramente che contraddistingue questo prodotto in sé è la presenza della beta-alanina, un aminoacido che ha un effetto tampone a livello muscolare, cioè ritarda la formazione del lattato. Questo permetterà all'atleta in questo caso di mantenere nel tempo le proprie performance fisiche senza subire così un declino verso il basso. ANPRO pre-workout, un prodotto innovativo per tutti quegli atleti che hanno la necessità di prepararsi ad una prestazione con la massima attivazione energetica, mentale e muscolare.